E' in calo il numero delle imprese e delle costruzioni in Piemonte. A marzo Confartigianato ha contato 65.024 imprese nella nostra regione, il 3,1% in meno rispetto al primo trimestre del 2017. Un calo generale in un settore chiave dell'economia e che riguarda tutte le province piemontesi. A Torino la flessione è del 3,4%, Cuneo conta 7.344 imprese edili, meno 2,6%, Alessandria meno 4,1%, Novara meno 1,1%, Asti meno 2,6%, Vercelli meno 1,5% e il Verbano Cusio-Ossola meno 2,1%. Secondo Luciano Gandolfo, presidente edilizia di Confartigianato Piemonte, l'emorragia che sta colpendo il Piemonte rispetto al numero delle imprese edili la dice lunga sulla crisi che sta attraversando il settore. Si registrano flessioni più o meno importanti in tutte le province. Le richieste delle imprese di costruzioni per risanare il settore, sottolinea Gandolfo, spaziano dall'accelerazione delle opere pubbliche alla semplificazione burocratica, vero macigno, che blocca il paese. E poi ancora Confartigianato chiede una politica fiscale a favore dello sviluppo e dell'ambiente, al rafforzamento delle detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico e sismico, e poi ancora riduzione di costi troppo alti come il cuneo fiscale. Il calo delle imprese edili è in controtendenza rispetto ai segnali incoraggianti che arrivano dal mercato immobiliare. In Piemonte nel 2017 sono stati registrati 49.610 contratti di compravendita per immobili, con un incremento del 5,4% rispetto al 2016. Con questi dati il Piemonte si piazza al di sopra della media nazionale. I dati elaborati da uno studio di Confartigianato, per la maggior parte dei casi, segnalano tipologia di immobili usati, quindi da ristrutturare e valorizzare con interventi manutentivi specifici o già ristrutturati con una elevata classificazione energetica.